Sicuramente una bella soddisfazione ieri questa sentenza del Tribunale di Vallo, mettiamo fine a questa vicenda, lei può continuare a fare il sindaco di Novivelia e consigliere regionale. Sì, effettivamente esprimo veramente una soddisfazione enorme, ieri sono stata colta di sorpresa da questa sentenza perché ovviamente non sapevo quando sarebbe uscita la decisione del collegio del Tribunale di Vallo, quando mi ha telefonato il mio avvocato, che ringrazio pubblicamente non solo per l'assistenza giudiziale ma anche per la professionalità, la competenza e il modo in cui mi è stato vicino in questo periodo, che è Pasquale D'Angiolillo, mi ha chiamato appunto dandomi questa bella notizia, io ero veramente, non ci credevo, era come se avessi risultato delle elezioni per una seconda volta e quindi poi è stato un susseguirsi di telefonate, di amici, di persone che mi hanno accolto in paese, veramente come se si siglasse una seconda vittoria. Io non voglio, come dire, sottolineare solo questo aspetto che ovviamente è importante perché negare la soddisfazione è impossibile, però voglio anche esprimere, come dire, una soddisfazione che va tesa alla comunità di Novi. Finalmente la stessa comunità trova un momento di riappacificazione. Il Paese continuava a essere diviso tra chi appunto sosteneva il mio mandato sindacale e chi invece in qualche modo metteva in dubbio questa doppia compatibilità dei due ruoli. Finalmente la sentenza ha confermato le tesi che abbiamo sempre sostenuto e che abbiamo cercato di portare avanti, non nell'interesse personale di occupare appunto le due portrone perché tra l'altro è anche un impegno gravoso ed una responsabilità doppia, ma proprio nell'interesse della comunità di Novi. Io credo che avere comunque per un piccolo paese, ripeto, un'espressione regionale sia un motivo non solo di vanto, ma proprio un'opportunità e una grande possibilità di sviluppo e di crescita per il nostro territorio. Quindi la dice Rassene, abbiamo gli animi e continuiamo perché lei non si è mai fermata a lavorare nell'interesse della comunità di Novi. Sì, stemperiamo esattamente queste animosità e cerchiamo veramente tutti di collaborare nell'interesse della comunità. Io in questi mesi di incertezza, perché appunto c'era sempre lo spauracchio della sentenza, ho continuato a lavorare come il primo giorno, senza timore e senza mettere davanti alla programmazione, alla visione del paese, il tempo o il termine di una sentenza. Io continuerò a lavorare, come ho sempre fatto, sempre come obiettivo, avendo sempre come obiettivo l'interesse di Novi e dei miei concittadini. Un risultato che va evidenziato doppiamente, perché è il primo caso del genere che arriva nelle aule dei tribunali, quindi una soddisfazione anche per l'avvocato Pasquale D'Angiolillo. Ecco, è un caso che sicuramente è destinato a rappresentare queste situazioni anche in altri momenti, secondo me? Sì, io credo che sarà un caso, sicuramente un caso giudiziario che farà storia, che farà come diciamo noi giurisprudenza, perché è la prima volta che un tribunale della regione Campania si esprime su questa compatibilità, quindi sul doppio ruolo tra sindaco di un comune sotto i 5.000 abitanti e consigliere regionale. E devo dire che l'ordinanza è stata anche molto articolata, perché è entrata nel merito della vicenda, proprio rappresentando un principio, quello in cui la regge regionale poteva effettivamente disciplinare, legiferare in materia di elezioni di incompatibilità dei sindaci rispetto alla carica di consigliere regionale. Credo che effettivamente è un caso storico e non a caso un mio collega universitario che scrive su testate nazionali ha avuto notizia di questa cosa e mi ha chiesto proprio il testo dell'ordinanza per poterlo rappresentare e quindi pubblicizzare anche a livello nazionale, perché veramente è un caso particolare, sì. Allora, lei non ha letto ancora naturalmente la sentenza, ma più o meno l'avvocato le ha spiegato perché è stato rigettato il ricordo. No, io ho letto la sentenza perché è stata, come dire, una curiosità anche professionale e sostanzialmente il collegio, come dicevo prima, è entrato nel merito e ha spiegato che in base al principio costituzionale dell'articolo 122 della Costituzione che riconosce una potestà legislativa alle regioni, la Regione Campania, come ha fatto, poteva appunto registrare in materia. L'importante è che non andava in contrasto con i principi generali dell'ordinamento. Quindi è vero che il testo unico stabilisce un'incompatibilità assoluta tra il sindaco e un generale senza distinguere le fasce di popolazione e la carica di consigliere regionale. In questo caso la Regione Campania è entrata, diciamo, in maniera più dettagliata nella vicenda perché ha specificato che nel caso di comuni sotto i 5.000 abitanti questo conflitto di interesse tra il sindaco e il consigliere regionale non si evidenzia e quindi alla fine c'è la compatibilità piena delle due funzioni. E appunto l'ordinanza si è soffermata proprio su questo aspetto di merito riconoscendo il potere costituzionalmente garantito e quindi nella piena legittimità la Regione Campania e del resto la legge non era incostituzionale ha deliberato in materia. Cosa si sente dire ai suoi cittadini e anche a coloro i quali hanno presentato il ricorso? Guarda, io in realtà non contesto e non condanno la minoranza per aver presentato il ricorso perché la minoranza, credo che come è logico, come sta proprio nelle regole del gioco debba effettivamente porre in essere tutti gli strumenti che hanno per, in qualche modo, condizionare l'azione della maggioranza. Però io mi sento di dire che in politica, ma nella vita in generale, esistono delle regole e queste regole vanno rispettate. Quindi bisogna prendere atto delle decisioni, in questo caso anche di un organo terzo della magistratura, serenamente, del resto hanno anche la possibilità eventualmente di appellare all'ordinanza. Però, ripeto, ci sono delle regole. Bisogna saper vincere e saper perdere in maniera anche serena, accettare anche le sconfitte senza continuare in maniera anche certe volte strumentale a tenere anche uno stato di cose che non fa bene né alla persona che lo aziona, ma soprattutto a chi ne vive gli effetti e i risultati che è la nostra comunità, che è la gente che noi dobbiamo amministrare. Noi siamo chiamati ad amministrare, la gente ci ha votato perché vuole avere dei risultati, non perché vuole assistere continuamente ad una rappresaglia, ad uno scontro tra maggioranza e opposizione. È chiaro però che la sentenza ha suscitato anche le prime reazioni da parte di chi ha sollevato questo ricorso. Tra le tante parole utilizzate è anche il fatto che lei sarebbe non incompatibile ma incompetente. Allora, che cosa ne pensa? Allora, su questa incompetenza, presunta incompetenza, mi viene da rispondere innanzitutto con una battuta, proprio perché abbiamo detto di non creare ulteriormente toni di conflitto. Allora, solleviamo un altro ricorso a questo punto, non sull'incompatibilità ma sull'incompetenza. Lo dico scherzosamente alla consigliera Speranza. La lista che si è contrapposta nel 2014 alla mia lista Battiti per Novi ha fondato la sua campagna elettorale proprio sulla mia presunta incompetenza ad amministrare. Ebbene, io rispondo, ripeto, con l'esito elettorale. Questa incompetenza è stata poi giudicata dalla comunità novese che mi ha invece premiato con una bellissima vittoria. E quindi, alla fine, io dico, sull'incompetenza non sarà un giudice, anche se la speranza è avvezza al Tribunale, al Tar, non sarà un giudice ad esprimersi, ma sarà un altro giudice, che è il popolo novese, quando sarà chiamato alle elezioni nuovamente. Intanto ieri sera una folla di gente l'ha raggiunta a casa subito dopo la notizia come se lei avesse vinto le elezioni nuovamente, in tanti a complimentarsi e ad esprimere la propria soddisfazione. È vero, questa è una delle soddisfazioni più grandi. Il fatto di avere la vicinanza e il sostegno della gente che ti dimostra in tutti i momenti, anche nei momenti più difficili, il fatto che sono vicino, che mi stanno vicino. E penso che per un amministratore, per le difficoltà, le criticità che supera ogni giorno, avere questa affermazione, questa attestazione di affetto, di stima, sia una delle soddisfazioni più grandi e più belle. Auguri. Grazie. Grazie. Grazie.